I familiari del ragioniere Salvatore Calzarano, 65 anni di Favara, deceduto venerdì notte all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, attendono le autorizzazioni a poter svolgere le seque funebri nel cimitero di Piana Traversa. Sulla morte dell'uomo causata da un aneurisma alla orta toragica, sono state aperte due inchieste, una interna dell'azienda ospedaliera e una della Procura della Repubblica di Agrigento. Calzarano era giunto al pronto soccorso del nosocomio agrigentino lamentando dei dolori al torage. Un'ecografia eseguita dai sanitari aveva evidenziato la gravità del caso. Per i 65 anni era stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Palermo. Salvatore Calzarano però è morto prima del decollo. Per i familiari che hanno denunciato alle autorità giudiziarie il presunto caso di malasanità occorre fare chiarezza sugli eventuali ritardi dovuti al non funzionamento dell'attac. Accuse respinte dal direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni di Dio Alfredo Zambuto che sabato scorso, unitamente al direttore sanitario Antonello Seminerio, nel corso di una conferenza stampa, ha difeso l'operato dei medici. I vertici dell'ospedale comunque hanno ugualmente avviato due inchieste interne. La prima, oltre che sulla morte del 65enne favarese, mira a far luce anche sul caso relativo alle conseguenze post parto della 29enne agrigentina Maria Grazia Palumbo in goma al reparto di rianimazione dell'ospedale Santeria di Caltanissetta dallo scorso 30 dicembre. La seconda inchiesta dell'azienda ospedaliere invece riguarda il guasto all'attac. Intanto, nel nosocomio di contrata consolita, i lavori di manutenzione dello strumento diagnostico dovrebbero concludersi in giornata.